Grazie alla corsa stiamo bene in salute ed in compagnia. Lo sport che unisce, motiva e rende la vita più bella è questo il messaggio dei podisti dell'ASD Lions Club di Grotta Minarda 1996. Circa 30 persone spinte dalla stessa passione. Sette di loro si stanno preparando per l'importante appuntamento del 26 novembre con la Maratona di Firenze e poi per quella ancora più tossa di 100 km del Passatore e perché no per New York. Alcuni hanno già corso ad Atene e a Caponord. Qualche sacrificio non manca ma soprattutto tanto divertimento. L'importante è correre una maratona perché come diceva uno dei più grandi ultramaratoneti Zapotec se vuoi correre un miglio corri un miglio, se vuoi vivere un'altra vita corri una maratona. Quindi la maratona è un'esperienza che secondo me chi si avvicina al podismo deve vivere assolutamente perché è un'emozione che dura esattamente 42 km e 195 metri. Basti pensare che per poter preparare una maratona c'è bisogno di un allenamento almeno di 4 mesi per chi già ha una preparazione base. Bisogna seguire degli allenamenti specifici, c'è bisogno di allenarsi almeno 4-5 volte a settimana e fare almeno 60-70 km a settimana. Lorenza tu hai circa un anno che ti sei avvicinata al podismo, perché questo sport? Mi sono avvicinata al podismo per caso perché sono stata coinvolta per fare un'attività extralaborativa che fosse all'aria aperta e rilassante. E poi tramite amicizie in comune ho conosciuto il gruppo con cui corro e sicuramente mi hanno accolta e coinvolta in questo sport che poi mi ha appassionato anche se prima non l'avevo mai praticato. Famiglia, lavoro in primis e poi tanta voglia di correre, di stare insieme, il piacere di correre insieme. Che poi questi ragazzi, dopo il maratone, noi tutti, abbiamo il post-maratone, nel senso che si riuniscono le famiglie in un pranzo, in un appuntamento annuale che ho il piacere di avere a casa mia e tutti quanti, con le famiglie, perché il messaggio che noi vogliamo dare è questo, vivere lo sport insieme alle famiglie, rafforzare i rapporti tra le persone. Uno, due, tre, ole!